1.200 mila euro, ve lo vuoi spiegare? No, ma cosa cambia? Scriverò qua, cosa cambia? 10.000 euro in più, 10.000 euro in più. Quali sarebbero i vantaggi che uno ha? 10.000 euro in più. 10.000 euro in più. Per esempio? 10.000 euro in più. Poi? Non cambia assolutamente nulla. Ciao Guido. Oh! Oh, il diavolo è spuntato. Oh, il diavolo! Ciao Guido, come stai? No, è incantiviso, è incantiviso. Non fai all'inizio, investimi di soldi. Comincia a rompere le palle. Allora, mi fai arrivare. Non fai arrivare.